Una notte da incubo, quella vissuta da nove famiglie delle palazzine di via Gramsci nel quartiere Neviera, amministretta. Un'intera palazzina interessata da uno spaventoso incendio che alla fine ha distrutto sette auto e quattro motocicli posseggiati nel garage condominiale, ma forte il rischio di esplosioni che potessero danneggiare seriamente la palazzina. E se alla fine il bilancio conta solo danni materiali e nessuna conseguenza per i residenti, lo si deve all'intervento dei carabinieri che, impegnati in un giro di prolustrazione della zona, sono riusciti a far scattare l'allarme immediatamente, evacuando l'intero edificio prima che il fumo avvolgesse gli appartamenti e sorprendesse la gente nel sonno. Secondo una prima ricostruzione, il rogo è scoppiato intorno alle 23.30 quando nel quartiere si è sentito un grosso boato e subito dopo le fiamme il fumo soffocante. Sul posto, per fortuna, si trovava come detto una pattuglia dei carabinieri di Mistretta che tempestivamente hanno fatto allontanare la gente dalle case. Poco dopo sono arrivati anche gli uomini del corpo forestale di Mistretta e Tusa che con degli estintori e con un mezzo antincendio hanno cercato di domare le fiamme, riuscendo a fare molto poco. All'una l'arrivo da Sant'Agata Militello di due squadre dei vigili del fuoco che sono riusciti ad avere ragione delle fiamme intorno alle 6 e mezza di oggi. Come detto, alla fine nel rogo sono state inghiottite 7 auto, 4 moto ed altri oggetti lasciati nel garage mentre la struttura è stata intaccata dal calore. All'interno si trovavano anche delle bombole del gas che per fortuna non sono esplose. Da anni si registrano al solaio e dai contatori della luce elettrica. Ovviamente tutti i residenti sono stati allontanati e ora sono ospitati da parenti ed amici. Secondo i primi rilievi il rogo è partito da un'auto parcheggiata all'interno del garage e le fiamme alimentate dal vento si sono propagate immediatamente distruggendo tutto. Ipotesi al momento più accreditata dai carabinieri della compagnia di Mistretta guidati dal capitano Filippo Lofranco è che l'incendio sia dovuto ad un cortocircuito elettrico avvenuto nel motore della vettura.